ciao raga quest'anno White Morning è un po' diverso mettendoci faccia e convinti, buona visione eccoci raga proviamo questa discesa, il drop non l'ho ancora provato due saltini due curve è un drop finale, tentiamo pronti, via, questa pedola è in corsa quando è bello viaggiato, un primo saltino di 4-5 metri ok, destra, scivola parecchio saltino, perfetto, curva, dopo ecco raga il drop che ho fatto prima non rende molto l'altezza ma in contrapendenza è bello tosto, sarà un metro e mezzo di che non rende molto più il resto del pesco non rende molto più l'altezza ha l'altezza non è Grazie per la visione!